Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno a tutti, vi prego, mangiate, non voglio... Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, come stai? Grazie per averne carinanze meravigliose. Complimenti per il tuo. Come stai? Buongiorno. Ciao, buonasera. Ciao, buongiorno. Di cuore, a nome di tutti, io ci tenevo a farvi le congratulazioni. Il risultato è buono. Ottimo, bocca al lupo di cuore per questa partita. E complimenti a Cattolano. Grazie. E poi sei il numero uno in assoluto. Cioè, chi c'è su quella di nessuno? In Italia, per presenza, sì. Grazie. 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 Grazie.